Carlo Mollino nasce a Torino il 6 maggio del 1905 è scrittore, designer, fotografo e nel tempo libero pilota di aeroplane e auto da corsa la velocità fa parte della sua vita e dei suoi progetti, riconoscibili dalla linea curva e sinuosa che caratterizza il suo stile a rotta di collo sugli sci progetta i suoi famosi chalet, unendo la sua passione per la montagna al lavoro inoltre la passione per il volo lo porta a vedere le città più lontane, condizionando anche le sue architetture, che sembrano spiccare il volo grazie